Triburo Sanera, amiche amici del Marietto, buon lunedì a tutti e a tutti e bentornati e bentornati a questo nuovo appuntamento col vostro Marietto Milanista. Come va questo giorno dopo di questa vittoria bella e convincente del gruppo senza Ibra, senza Romagnoli, senza i pezzi che mancano? Però andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. 14 partite dal dopo lockdown, 11 vittorie, tre pareggi e zero sconfitte, però attenzione ci sono anche le due partite di Europa League, due vittorie su due, quindi bisogna anche dare a Cesare quel che è di Cesare. I ragazzi stanno andando verso il giusto cammino, però prima di iniziare con questa notizia che chiaramente immagino che possa interessare a tutti noi cuori rossoneri, voglio cominciare come sempre con un vostro commento del video del giorno prima, però questo è di due giorni fa, però gli avevo promesso a lui che si chiama Luciano Spitaleri, che è un carissimo mio follower già da quasi l'inizio che avevo cominciato con il Marietto Milanista, era uno dei primi 300-400 iscritti mi ricordo, quindi da tanto tanto tempo che mi segue e quindi era un po' che non mi scriveva e mi scrive ciao Fra, e io grande Luciano come stai? E qua inizia un po' il suo commento che sinceramente poi mi ha toccato parecchio perché come molti di voi mi conoscono sono una persona molto sensibile alle vicende umane, anche perché ho lavorato tanti anni come educatore professionale in centri minori, con bambini che non erano tutelati dai loro genitori, erano in mano dei servizi sociali, poi altre altre situazioni, quindi una certa sensibilità per certe tematiche ce l'ho e rimane, quello è qualcosa di mio per quanto già non faccio più questo lavoro da qualche anno. In ogni caso lui mi dice come sto vorrei saperlo anch'io, è diventato un mondo irreale, sono un po' giù di morale, lavoro tanto e guadagno poco, la mia bimba la vedo poco e mi manca a fargli le coccole, l'amo tantissimo, ti capisco, io ho un figlio di undici anni fra un mese, fra quasi un mese esatto, il 28, il 29 di ottobre, meno male che ci sei te e la nostra squadra che mi distraggono un pochino, ti voglio bene, ciao fra, a te ti vedo bene, sono contento per te, poi questo virus è la follia, non è più il mio mondo. Ho voluto prendere questo commento che ringrazio Luciano chiaramente, e gli sono totalmente vicino in tutto, nella vicenda sua personale, di quello che sta vivendo e chiaramente immagino che non è un momento facile per molta gente, in questi mesi ho visto persone che hanno dovuto chiudere baracche e burattini, l'economia praticamente agli estremi e speriamo davvero in una grazia universale, perché quello che c'è bisogno ragazzi è sicuramente tirar fuori il nostro coraggio nel dire noi vogliamo vivere liberi e sereni, però anche se è vero che ci vuole una grazia divina per far sì che qualcosa si smuova, perché realmente è molto dura a tanti livelli, quindi io capisco che come Luciano ci sono tante altre persone. A me mi vedi bene più che altro perché anch'io onestamente, cioè col mio canale cerco di tirarvi su, perché ragazzi questo è un po', a volte ci riesco, a volte non ci riesco, però a volte devi anche renderti conto che non bisogna sempre pensare al problema, al problema perché quello che fai è fomentarlo, quindi cercare un po' di distrarci, alla fine il calcio è un po' una distrazione, però allo stesso tempo io in questo canale cerco anche poi di portare degli altri contenuti che sono anche di attualità e sociali, molti di voi lo sanno, quindi ti ringrazio, ti ringrazio di cuore per questa tua lettera più che commento, sembra come una lettera a un amico e qua hai un amico sicuramente che ti ascolta e ti dà appeso a queste cose perché per me sono importantissime. Detto questo come sempre ragazzi io vi invito per chi ancora non l'ha fatto a iscrivervi al canale con campanella attiva, like di sostegno e condivisione nei social alla fine se vi è piaciuto e passiamo al nostro Milan. Allora, per allegrarti, ecco Luciano dai, quindi subito alziamo la vibra, perché abbiamo un presidente in squadra? Questa è una cosa, una curiosità che ho letto su Frank Chessy, che praticamente dice che nello spogliatoio lo chiamano il presidente. Allora, la domanda che gli chiedono, che gli fanno, perché mi chiamano il presidente? Perché sono il presidente della squadra, il capo dello spogliatoio. Mica! Minchia la mafia proprio! Già me lo vedo, Chessy, a tozzare con Ibra. Altro che, su lui il presidente, allora Ibra, secondo me, come, non so se vi ricordate, Fantozzi era il presidente dei presidenti, cioè il super presidente, quindi, cioè, però è molto simpatico, perché immagino che sicuramente sarà così, è già da diversi anni ormai al Milan, qualche anno, quindi avrà in mano sicuramente lo spogliatoio, poi è un personaggio, si vede che, dai, poi sta andando alla grande, quindi avanti così anche con il nostro Chessy. Poi anche da dirvi una notizia, un comunicato ufficiale di neanche un'ora fa, dell'assenza di fratture per Rebic. Un esame di controllo fra dieci giorni, il Milan comunica, appunto, che in seguito alla lussazione al gomito sinistro subita nella sfida Crotone-Milan, oggi Ante-Rebic è stato sottoposto a esame TAC che ha confermato l'assenza di fratture, bla bla bla, quindi fra le decine di giorni ci sarà la risonanza e comunque tutto ok. Avanti che Rebic lo recuperiamo prima del derby. E per finire, ragazzi, finalmente il nostro James Peter Auge ha parlato dell'interesse del Milan nella consueta intervista post-gara a una delle loro emittenti NRH e dice io so che ci sono dei contatti, a loro è piaciuto quello che hanno visto, che ho fatto contro di loro in Europa League, cioè contro di noi, e giochiamo un tipo di calcio, e il Milan tra l'altro gioca un tipo di calcio che a me mi diverte, è un'opportunità entusiasmante che bisogna considerare e prendere sul serio. L'offerta dovrà accontentare il club, voglio una squadra in cui ci siano buone possibilità di giocare e un allenatore che soprattutto abbia fiducia in me. Queste parole a me mi hanno riscaldato il cuore, chiaramente da buon tifoso, perché come tutti voi e anche nei messaggi lo vedo tutti, anzi quasi tutti, anzi quasi la maggior parte, mi dicono preferisco Auge a Chiesa. Adesso proprio si è ribaltato, per prezzo, per storia, per anche l'età e tutto quanto. A me è piaciuto tantissimo, però ragazzi io vi voglio ricordare quello che vi dicevo tempo fa, ricordatevi i colpi di fulmine che abbiamo avuto anche tanto con Dugarry in un Bordeaux Milan degli anni 90 e poi successivamente inizio 2000 con Vitali Kutuzov, ve lo dicevo l'altro giorno, e come sono andati. Spero che non sia così anche perché su di lui effettivamente ho letto che ci sono diverse società e soprattutto c'è il Manchester United che è molto molto interessato. In ogni caso, detto questo, per chiudere serve sempre un centrale. Su questo continuerò a battere il chiodo sperando che questa vibra si muovi e che il prima possibile appunto in Milan arrivi a concludere. Ho letto che ci sono, diciamo, dei desideri e delle volontà, a parte il Milan, di affondare su Fofanà, però se non ricordo male era un 30 milioni il cartellino per un ragazzo di 19 anni. Io ho detto la mia, con la vendita di Paketà 23 milioni, abbiamo 15 milioni che puoi investire su Ayer e altri 5 massimo su Ayer. Siamo a posto così al momento, anche perché, ragazzi, quello che ci serve è questo. Poi se dovesse arrivare un terzino destro a prezzi stracciati, che possa essere un orie che si sente, piuttosto che, io che ne so, un'occasione d'ultima ora che ti dà il prestito secco Jovic, Real Madrid al Milan, certo che sono sempre benvenuti, però ricordiamoci anche per tanti che mi facciano delle domande in questi giorni, ma il Milan è un po' fermo il mercato. Ragazzi, questo è un mercato che non è un mercato normale, è un mercato da post-lockdown e bisogna stare molto attenti, anche perché il Milan, ricordiamoci, che ha un 100 milioncini in rosso, quindi non è che possiamo fare spese folli. Il Milan fa quello che può. Intanto, quello che abbiamo visto anche con i nuovi tonali e soprattutto Brian Diaz l'altro giorno, non sono certo delle manovre così stupide quelle che ha fatto il nostro caro Maldini. Quindi diamogli fiducia, mancano ancora una settimana più o meno alla fine del mercato, ricordiamoci che giovedì abbiamo la partita della vita, tra virgolette, con Rio Ape perché comunque ci dà l'opportunità di andare ai gironi Europa League e quindi io penso anche che dobbiamo attendere un momentino quel 1 di ottobre, cioè 3-4 giorni, però sono sicuro che Auge si potrebbe sbloccare anche in questi giorni. Al di là che andremo avanti o meno in Europa League, io penso che per prezzo e cartellino con lui ci possiamo stare dentro. Per il resto probabilmente affonderemo il colpo su altri due, credo, giocatori dopo l'1 di ottobre. E quella è anche la mia speranza, come quella di tutti voi, per un po' impacchettare meglio questa rosa, anche perché ragazzi l'abbiamo visto con il Covid, qua non sappiamo come va, i positivi, i tamponi, i negativi, non si capirà niente. Quest'anno sarà veramente a chi avrà più fortuna in questo senso. Quindi io spero che abbiamo fortuna, però per quello non dobbiamo rimanere con la copertina corta anche perché se poi abbiamo più competizioni assolutamente abbiamo bisogno di più elementi in rosa. Detto questo ragazzi, come sempre commenti in basso, per me come vedete sono uno, come dicono molti, dei pochi youtuber che rispondo quasi a tutti. Là dove posso comunque vi leggo tutti ragazzi, questo è poco ma sicuro. E niente, continuiamo a iscriverci al canale con campanella inattiva, like di sostegno, condivisione per me sono una grande benedizione e dal vostro marietto milanista sempre con il mio cuore rosso-nero, forza Milan ovunque e comunque ci vediamo domani alla prossima. Ciao!